Questa sera il Partito Democratico Nocerino deciderà l'opzione per definire il futuro della giunta comunale. Il direttivo, convocato dal segretario Francesco Scarfò, deve scegliere tra due opzioni in chiave di rimodulazione dell'esecutivo che affianca nell'attività amministrativa della città il sindaco Maglio Torquato. La prima, due assessori in quota PD un tecnico e un consigliere comunale. I democratici invece vorrebbero due consiglieri da nominare assessori e nessuno incarico per il segretario cittadino. La controproposta del sindaco invece è l'incarico di vice sindaco a un loro consigliere comunale. Dunque il confronto è aperto. Continua intanto il toto assessore. Ciro Amato potrebbe tornare in giunta Torquato non lo nasconde. La professionalità e l'esperienza dell'avvocato gli potrebbero servire per il rush finale del mandato. C'è anche un rapporto di stima e fiducia tra i due. Il sindaco vorrebbe in giunta anche Scarfò per affidargli la gestione dell'igiene urbana, lavoro già svolto dall'ingegnere nella precedente consigliatura. Scarfò però, come detto prima, deve superare l'ostracismo dei suoi amici di partito. Perde colpi la candidatura di Manuela la citarrella che Campania Libera vorrebbe alla politica sociale. Delega contesa dai moderati per Torquato che spingono per il rientro al municipio, questa volta da assessore e non da dirigente di Antonietta Manzo.